da questa parte vieni è bello ciao ciao arriva la sorpresora porto finale e via arriva si è stata l'esplosione e allora meno uno via il fuoco sembra solo a me la situazione è ancora più strana da quando aveva congelato il super squad è perché dei bar sta provocando la spattatura del contino spaziale i bar non provengono solo da questi stili arrivano qui sta da loro da quando prende lo suolo gigante e spinto in natura migliori anni fa ciao è vero sono costruendo qualcosa di grande per dominare tutto i nostri stili dobbiamo fermarlo allora ci servirà una scarica di velocità sfida accettata sai la patola con un'altra scatola a patola con un'altra per un attimo ha spaventato le moto ma sono sicuro che ritorneranno questa volta saranno più armati e attrezzati di prima eccoli con loro infatti arriva anche lo scorpione caro scorpione per spaventarci deve usare il consiglione più venenoso sceriffo lascia scappare le moto fuori mi sono pure simpatici ma attenzione allo scorpione se vuoi mettere il cristallo segui lo steriffo pronto a partire questo sì che è un'impresa da record grandissimo non smonta le donne dei viti ne sono sicuro ma per ora preoccupiamoci di NIVAN ma guarda che non ha non è attenzionato che è proprio il gigantino il dragone rotta tu distruggete appuntate il pulso a pulso il volo fuori di qui blocchiamolo blocchiamolo cadrone e noi vi salutiamo definitivamente ciao ciao dragone un bacio mostri mi sminiti e eliminati i bambini rimane solo come da chi il mio cuore ancora troppo libero di agire distrumbato in città ora tutta la meraviglia di hotel city che le mie mani che ha costruito un tetracaricatore ora ha una potenzionaria stabile dobbiamo fermarlo scattata scattata lo cadono come da chi lo avrete a riuscire in cinema con il carabattia quindi per riuscire il nostro pacchiccio fermati arrenditi rinforti da questa parte vola 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 il nostro che è potente e testate indubbiamente il numero uno perché non si è ancora finita la storia ma tempo di qualche minuto e torneremo di cinque ore sta andando in scena il nostro mega room tutto quello che entra all'interno del mega room è destinato ad unire in un punto dell'universo lontano da qui ma soprattutto al sicuro sì al sicuro è la presenza di nevato ancora qualche metro e insieme vivremo l'emozione in testa di oggi rischiamo manca davvero poco anzi pochissimo pronti a installare questa mega struttura a radicarla per me a terra stiamo pronti a conoscere gli sfidanti di oggi eccoli arrivano la tua base e il campo estero anche perché vuole tanto chiesto di un piccolo ragazzo dall'alto verde potete ospitare l'alto verde dalla vostra vista per la rinforza vincente riscaldate i motori vista libera per voi vittoria 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 siamo qui a Mirabilia è arrivato un momento di conoscere lo stand in D Hot Wheels 3 e iniziamo dagli super campioni delle due e delle quattro ruote il primo che viene salutati da vicino con i suoi mangiamenti di poter lui Roberto Mario Snelli davvero generale una raccomandazione soprattutto degli amici più piccoli non imitate da nessun motivo i nostri distanti ai contestisti perché potrebbe essere molto pericolosi conosciamo ora i super campioni delle quattro ruote a partire da lei bellissima su Instagram la parola di mani profiuti e lei la decina dei motori Cristina Cristina eh bravissima arriva con l'arco giallo limone questo per la prima del suo nome Simone Cristina Alessandro Belli Alessandro Belli Alessandro Belli Alessandro Belli Alessandro Belli Sì, 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 sì. Marco Cioni ecco i compiti a volare in cima al motore di tappi e vieni Office TV E voi Siete protagonisti Quanto a noi Nel nostro Fittascio mondiale E ora voglio dimostrare Uno tutti insieme Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Sociale Siete qui nel nostro cuore Finale Tutti insieme Le mani, le mani, le mani E la voce, con le voce Bravi, bravi E noi di loro qua Lo diciamo a voi tutti Bravi, tutti Tutti i nostri Per voi oggi Salutazioni